Eccoci, ci siamo, buonasera, buonasera, torna l'appuntamento con l'Happy Hour culturale della CGL e torna per portarci a fare un viaggio, anzi il viaggio per eccellenza, l'Odissea. Quindi non prendete impegni per i prossimi martedì, i prossimi cinque martedì oltre a questo, perché il viaggio sarà affascinante e a guidarci in mezzo alle peripezie di Ulisse saranno ancora una volta i nostri splendidi narratori Elena Galvani e Jacopo Laurino di Stradanova Slow Theatre, coadiuvati dallo storico sindacalista Amedeo Zupi con le sue pillole di conoscenza. Naturalmente parliamo di un'idea ormai ben collaudata, dell'ospici GL Atto Tevere ed in particolare di Patrizia Venturini, che saluto. Salve, ciao a tutti, benvenuti, non vedo più Elena Jacopo, ci piacerebbe vederli, però vedo Simone Pampanelli che è il nuovo, freschissimo segretario della Camera dell'Odissea. lavoro di Perugia, quindi perché è un battesimo? Allora, devo dire la verità, quattro anni fa, all'inizio della pandemia, quando mi è venuta quest'idea, volevo, dovevamo fare Odissea, poi mi sembrava improprio, visto che eravamo in mezzo a delle problematiche, non immaginavo che si sarebbe anche aggiunta la guerra. comunque Odissea non è soltanto quello che noi immaginiamo, ormai è un modo di dire, no? È un Odissea, cioè una via, un viaggio intriso di problemi, di pericoli, eccetera, ma è anche un viaggio molto affascinante. come direbbe, ricordandoci di Dante, il folle volo, il volo della nostra fantasia, della nostra ricerca, della nostra esplorazione. Simone, tu lo sai perché facciamo queste cose, a quale partecipa la Camera del Lavoro e la CGL regionale dell'Umbria, che stasera, devo dirvi, sono impegnati, che domani comincia la grande assise finale, quindi il congresso della CGL dell'Umbria, per cui chiaramente sono assenti, giustificati, vogliamo dire così, perché evidentemente sono impegnati a far sì che la finale di questo percorso democratico importantissimo che c'è stato in questi mesi, abbia, come dire, che vada tutto bene, insomma. Allora, noi abbiamo, come hai detto tu Fabrizio, l'Amedeo Zupi, che io chiamo l'Alessandro Barbero de Noaltri, e devo dirti che in questi mesi, quando non cominciavamo, perché eravamo impegnati nelle assemblee congressuali, molta gente mi fermava dicendo, ma beh, e quest'anno non ci siete? Allora, naturalmente ci siamo, abbiamo deciso ancora una volta di non rifarlo in presenza, perché quest'anno abbiamo l'Australiana, oltre il Covid, però chiaramente c'è una novità, vero Fab? Cioè, tutte le nostre puntate verranno poi pubblicate su YouTube della CGL, in maniera che anche le scuole, soprattutto gli studenti che possono guardarci, diciamo, in qualsiasi ora, ritroveranno anche tutti i quattro anni. Una sorta di podcast video delle nostre puntate, che potranno essere utilizzati da chiunque, perché sono in YouTube, ma in particolare, come dicevi tu, potrebbero essere utili nelle scuole, insomma, per fare dei percorsi. Tanto per ripetere, per chi non ci conoscesse, in sintesi proprio, praticamente abbiamo deciso di fare questo, perché ci sono delle persone che, come dire, magari non escono, non vanno mai a teatro, hanno magari voglia di o affrontare i nostri classici, o come dire, semplicemente di ripercorrerli. Ricordo Don Abbondio, quindi Promessi Sposi, tutto il ciclo dantesco, e adesso abbiamo, voglio dire, Omero. Ma naturalmente noi siamo un sindacato che mira, sì, alla conoscenza, alla cultura, perché la cultura è un fattore di emancipazione, ma soprattutto dobbiamo ripercorrere quelle che sono le nostre radici, i nostri valori, del vivere civile, che magari qualche volta per strada forse ci perdiamo. E quindi vedremo quest'anno in particolare alcuni elementi, tipo l'accoglienza dello straniero, ma insomma poi ci diranno meglio i nostri attori, che forse ci dovrebbe indurre a riflettere, no, da chi siamo nati, qual è la nostra cultura, qual è la nostra storia, quali sono le nostre radici. Detto questo, Fabrizio, invitiamo anche chi ci ascolta a fare commenti. Sì, senz'altro, anzi già ce ne sono, perché alcune delle nostre più affezionate, diciamo, fan, sono già collegate e salutano e sono ben contente che riparta questa avventura, e quindi ovviamente sì, commentate, fateci sapere cosa ne pensate e se ci sarà modo alla fine della puntata, come al solito, andremo anche a leggere alcuni commenti. Simone, vuoi fare un intervento adesso, un saluto o alla fine? Come vuoi? Certamente, ben arrivato comunque, siamo molto contenti che ci sei. Ok, a voi. Si parte? Bene. Pronti via? Si parte, si parte. Scusami, chiudiamo, scusami, chiudiamo microfono noi e video perché disturbiamo e basta. Dunque, dunque. Buonasera a tutti. E a tutte. Che dire, siamo felici di essere di nuovo qui, in diretta Facebook dalla pagina della CGL Umbria, per salpare per un nuovo viaggio letterario in vostra compagnia. Allora, un secondo che ho un problema. Ecco. Beh, allora, il viaggio, il viaggio che ci aspetta quest'anno è il viaggio per eccellenza. L'Odissea, appunto, come ha già detto Patrizia. L'Odissea è il grande poema dell'antichità, la cui composizione si perde nella notte dei tempi. Cioè, dobbiamo risalire a, probabilmente, a tremila anni fa per trovare già le prime espressioni poetiche che poi entreranno in questo grande poema. Di Omero. Di Omero. Così, chiamiamolo Omero. Chiamiamolo Omero, ecco, anche se si sa poco dell'autore o degli autori di questo grande poema. Beh, insomma, parliamo di uno dei pilastri della cultura occidentale, tanta roba, eh? Eh, sì, sì, sì. Eh, insomma. Però io partiremo proprio subito, subito, immergendoci senza preamboli nella poesia, e quindi chiederei a Elena di leggere i primi dieci versi del poema che rappresentano il cosiddetto proemio, no? Quella parte in cui il poeta invoca la Musa per avere l'ispirazione e in cui svela, diciamo così, l'argomento della sua opera. L'Odissea inizia così. Musa, l'eroe dalle vie molteplici dimmi che molto peregrinò rovesciata la sacra fortezza di Troia, e città vide di molti degli uomini i cuori neintese, molti dolori sul mare Patì dentro l'animo suo, mentre cercava a sé vita e ritorno per i compagni. Ma non per questo i compagni salvò contro il suo desiderio. Già, per le loro follie andarono incontro a rovina, essi che con i giovenchi del suo liperione da stolti si erano cibati, e per loro il Dio tolse luce al ritorno. Tu, di quei casi, dea figlia di Zeus, narra, in parte, anche a noi. Ecco, questi sono i primi dieci versi del poema. Una piccola parentesi sulla traduzione che abbiamo scelto. Come avrete sentito, si tratta di una traduzione molto attenta alla resa della musicalità metrica. Il traduttore che abbiamo scelto si chiama Daniele Ventre. Giovanissimo, abbastanza, è la nostra età, quindi giovanissimo. Penso che sia un po' più giovane di noi. Comunque, è un professore di lettere classiche di Napoli, che per la casa editrice Mesogea ha curato, intorno agli anni dieci del duemila, quindi una decina d'anni fa, le traduzioni sia dell'Iliade che dell'Odissea, e creando proprio, costruendo per questa sua traduzione un verso originale che cerca di, così, rievocare l'andamento ritmico e musicale dell'esametro dattilico greco. Ma riuscendo, allo stesso tempo, ad attenersi ad una traduzione molto corretta dal punto di vista filologico. Detto questo, fermiamoci un attimo ad analizzare questi primi dieci versi, no? Così cominciamo subito a entrare nell'opera. Allora, inizia così, Musa, l'eroe dalle vie molteplici dimmi, quindi l'eroe. Al centro del poema c'è un eroe, un eroe che è il protagonista, indiscusso, infatti dà il titolo, no? Al poema stesso. Odisseo, oppure si può dire anche Odisseo. Odisseo è la pronuncia latina che, appunto, Daniele Ventre sceglie per la traduzione e che magari usiamo anche noi perché è presente, appunto, nella traduzione. E poi il nostro Ulisse, il nome che meglio conosciamo, deriva proprio da Odisseo, da quella pronuncia. Quindi Odisseo, re di Itaca, la fantomatica Itaca, che però, se vogliamo proprio dirlo, è uno scoglio con un po' di pecore sopra, non è che sia proprio... Poi, insomma, comunque la mitica Itaca, no? Odisseo, Odisseo, è uno dei tanti, dei tanti sovrani greci che hanno mosso guerra alla città di Troia. Con lui, quando è partito per la guerra, sono partiti tutti gli uomini abili del regno. Insomma, la meglio gioventù, eh, dell'isola. La guerra di Troia non è proprio stata una guerra lampo. Eh, no, no. Dicono sempre che fanno le guerre lampo, poi invece durano, ecco. Speriamo di una... quella che viviamo adesso. Adesso, comunque, la guerra di Troia è durata dieci anni, perché la città di Troia cadde dopo un assedio lunghissimo. E, caduta Troia, i greci superstiti tornarono a casa, chiaramente ognuno nel proprio regno. Eh, ma anche questi ritorni, no? Furono tutt'altro che semplici. Non solo perché, chiaramente, i viaggi in mare erano pericolosi, no? Molte flotte vennero distrutte con le tempeste, gli scogli affioranti che bucavano le chiglie, insomma. C'erano molti pericoli. Ma anche qui pochi che tornavano in patria trovavano delle situazioni politiche, critiche, no? Eh, dovute alla loro lunghissima assenza. Attenzione che questo è proprio il tema centrale, eh, come vedremo oggi. Cioè l'assenza, che dà anche il titolo, no? Alla puntata di oggi. Oh, sempre nel proemio, leggiamo anche che Odisseo molto peregrinò. No, perché dopo i dieci anni della guerra di Troia, il nostro povero eroe, per altri dieci anni, cercherà di ritornare in patria. E peregrinando, ci dice sempre il proemio, conobbe le città, quindi tutti i suoi viaggi, quelli che tanto sono famosi, conobbe le città e i cuori di molti degli uomini. Cioè, non era solo un'alicia colò, eroica, diciamo che faceva dei viaggi da turo per etro, no? Lui conobbe i cuori di molti degli uomini. La sua fuori, una conoscenza dell'uomo nelle situazioni più estreme, dove ci sono i grandi atti di eroismo e di umanità, ma anche le miserie e le meschinità dell'uomo. Questo comunque, questo verso, è proprio un cenno preciso a questa straordinaria conoscenza che questo viaggio di ritorno procura ad Odisseo. Sì, però, scusa se intervengo, non dobbiamo farci fuorviare troppo da quest'ansia di conoscenza da cui invece è mosso l'Ulisse di Dante. Il personaggio omerico è molto diverso dall'Ulisse di Dante, appunto. La conoscenza di cui parlava Elena e che acquisisce senza dubbio l'eroe dell'Odissea, però non è l'obiettivo del viaggio. Odisseo non viaggia per conoscere. Come fa quello di Dante. La conoscenza è una conseguenza del viaggio. Quel viaggio interminabile, estenuante dell'Odisseo di Omero risponde solo alla sua caparbia volontà di sopravvivere e di tornare a casa. Questo è meglio chiarirlo subito. No, perché è importante. E questo è un viaggio che procura, oltre che conoscenza, molto, moltissimo, troppo dolore. E infatti nel proemio si dice molti dolori patì. E il dolore è un altro elemento essenziale del protagonista dell'Odissea. E come forse qualcuno ha notato già, la parola molto ricorre più volte nei primi versi dell'Odissea. Odisseo molto peregrinò, molto patì, conobbe i cuori di molti, di molti degli uomini. Addirittura la parola molto ricorre ben due volte, pensate solo nel primo verso, non è una cosa di ventre del traduttore, è una cosa presente proprio nel testo greco. Musa, l'eroe dalle vie molteplici, dimmi, che molto peregrinò. Il primo epiteto, che è il soprannome, no? Possiamo dire. Chiamalo così. Chiamiamolo così, con cui viene definito Odisseo e che ricorrerà spessissimo nel poema, è Odisseo dalle vie molteplici. Significa Odisseo che sa volgersi in molte direzioni, l'Odisseo versatile. Altri lo traducono come multiforme Odisseo, oppure con poliedrico Odisseo, sempre, insomma, sempre lì siamo. E perché questo concetto di molto è indissolubilmente legato al nome di Odisseo? Perché Odisseo non è un uomo comune. Odisseo è più degli altri, è superiore e in quanto tale è anche diverso. E in quanto diverso è, altra cosa fondamentale, profondamente solo. Non so se avete fatto caso, ma a metà proprio del poema, del proemio, metà precisa, all'inizio del sesto verso, per la precisione, compare un ma, che isola in maniera grammaticale, va bene, ma anche esistenziale, questo povero Odisseo, dai propri compagni. Cioè, i compagni di Odisseo sono guerrieri valorosi, eh? E' gente che ha passato dieci anni a combattere, che ne è uscita viva, vincente. Ma questi guerrieri valorosi non hanno la forza sovrumana di Odisseo. E infatti quel ma ci dice, ma non per questo i compagni salvò. Perché i compagni di Odisseo non riusciranno a superare le terribili disavventure che costelleranno il lungo viaggio di ritorno a casa dopo la fine della guerra di Troia. Solo Odisseo tornerà a Itaca. E tra i suoi molti dolori, quello più grande sarà proprio quello di non essere riuscito a salvare i compagni. Sì, però adesso mi sa che tutti staranno pensando che il poeta, in questi primi dieci versi, ci ha spoilerato tutto. Cioè, ci ha già detto come andrà a finire. Ma perché sei un dilettante. Non c'è più niente da sapere. Ma non è così. Possiamo chiudere il crudo a giocare di sé. No, no, non è assolutamente così. Perché il viaggio di ritorno di Odisseo non è il vero oggetto dell'opera. No, è l'antefatto di tutta l'opera. Infatti spesso, siccome sono famosi i viaggi perché sono belli, sono più di avventure, di mostri, di donne bellissime, fascinose, allora uno spesso tende a pensare che il viaggio di Odisseo occupi una parte, diciamo, preponderante del poema. Però in realtà, se stiamo lì a contare, se stiamo ai fatti, diciamo, il viaggio occupa solo un terzo dell'intero poema. E addirittura vi dirò che gli episodi che si ricordano di più, Polifemo, Circele, Sirene. Cile Calipso. Sì, esatto, Calipso. Quelli sono concentrati, pensate, in quattro libri su ventiquattro, insomma. E quindi rappresentano una parentesi, una parentesi ampia, ve lo concedo questo, però è sempre una parentesi nella storia. Sono dei fatti narrati a posteriori e in prima persona, tra l'altro, dallo stesso Odisseo, quando è ospite alla Corte dei Feacci e racconta la sua storia. Quello che il proemio non svela è cosa succederà a Odisseo una volta raggiunta Itacà. Ed è su questo che il poeta dell'Odissea mantiene la suspense. E in questa scelta si cela probabilmente una delle chiavi di lettura più importanti del proemio. L'Odissea è la storia di quello che accade a Odisseo, a Itacà, dopo il suo ritorno. Ed è la storia del ritorno di un re nel proprio regno da cui mancava da venti anni. Però, adesso andiamo con l'ordine e diciamo subito, a conferma di quanto abbiamo appena detto, che la nostra storia non comincia sotto le mura di Troia, a guerra conclusa, quando, insomma, gli eserciti greci stanno salpando per tornare a casa. La nostra storia, l'Odissea, comincia a Itacà, direttamente, dieci anni dopo la fine della guerra di Troia. Odisseo non è ancora tornato e di lui non si sa più nulla e il suo trono è vuoto da vent'anni. È molto interessante che all'inizio del racconto Omero ci porti subito nella regia di Odisseo, ma in sua assenza. Un'assenza che, come vedrete, pesa in maniera enorme, proprio per quell'essere molto di Odisseo, no? Tanto più grande è il re, tanto più grande sarà il vuoto che lascia. E il poeta ci costringerà a rimanere in assenza del nostro eroe per i primi quattro libri del poema. Diciamo che prepara molto bene l'entrata in scena del protagonista. Eh beh, sì, il protagonista è importante, ha bisogno di un inizio importante in cui tutti si chiedono ma dov'è Odisseo, ma che fine ha fatto? E alla fine lui entrerà in scena dopo quattro libri. Cioè, Omero probabilmente, in questo, veramente Omero è meglio di Hitchcock il creare la suspense. Perché? Perché ci presenta per ben quattro libri la situazione ad Itaca. Perché vuole che il lettore conosca prima nei dettagli qual è la situazione che Odisseo troverà in patria quando riuscirà a ritornare. Quindi noi ci facciamo tutti, tutti i libri pensano sì, poveraccio, già gli stanno capitando tutte queste e poi quando torna chissà cosa gli succede con questa situazione che si ritrova. Però, prima di scoprire come se la passano gli tacesi vent'anni dopo la partenza dell'Orore, io direi che potremmo chiedere al nostro Amedeo Zupi, che saluto, sono molto felice di averlo ancora con noi, di chiedere al nostro Amedeo Zupi di dirci qualcosa sulla struttura politica, sociale del regno di Odisseo prima della sua partenza. Intanto un saluto affettuoso a voi e a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. Sì, molto rapidamente, scusate, avvio il timer perché non voglio splafonare col tempo. Intanto una precisazione, una premessa. Dirò delle cose su un'epoca storica che non ha storici coevi. Gli storici ne hanno scritto secoli dopo e non ha, diciamo, l'Ilia dell'Odissea ci danno una serie di elementi importanti, ma anche sull'Ilia dell'Odissea vale quello che ci ricordava Elena, ci ricordava Jacopo. È un'opera che ha avuto una lunga, lunga evoluzione nel tempo. Quindi ci soccorre l'archeologia e quindi lì abbiamo alcuni elementi di certezza. Io nella mia esposizione parlerò delle cose di cui siamo ragionevolmente certi, cioè sappiamo che probabilmente le cose erano così. La società di Odisseo, quando parte, è una società che ha lasciato alle sue spalle ormai da tempo l'assetto tribale ed è organizzata su una serie di famiglie. Possiamo chiamare col termine greco, genos, gens, col termine latino. Come sono organizzate queste famiglie? C'è un capo, indiscusso e indiscutibile, è il patriarca della famiglia, poi ci stanno i figli, di solito tanti, i fratelli, le sorelle, se non sposate in altre famiglie, e poi via via la piramide sociale che comincia a scendere. Ci stanno gli amici di rango, quello che nella storia arcaica di Roma chiamiamo i sodales, cioè persone che hanno una certa autorevolezza, a una certa ricchezza, però fanno parte della famiglia. Poi ci sta un gradino più in giù, i serbi, sono uomini liberi, di solito contadini, ma abbiamo anche pastori, ma abbiamo anche artigiani che compaiono, su questo poi ci tornerò un attimo, anche i marinai, gente a vezza a navigare, e poi il gradino più basso ci stanno gli schiavi. Questa famiglia è proprietaria di terre, di vigne, di armenti, di animali, di greggi, e tutto ruota attorno al palazzo. Il palazzo, guardate, anche nell'Odissea, il palazzo di Ulissea è quasi un protagonista, molto si svolge lì. Dentro questo palazzo abitavano tutte queste figure, o immediatamente nelle adiacenze del palazzo. Come si mettevano insieme queste famiglie? Noi possiamo ipotizzare, la ragione è, la Inaitica è una piccola isola, lì valeva la contiguità territoriale, ma anche nella terraferma. Si mettevano insieme queste famiglie per contiguità territoriale, per legami di parentela, per un patto di mutua difesa, a volte perché riconoscevano una stessa divinità di cui erano devoti. A capo di questa insieme di famiglie, di clan, di gentes, chiamiamoli come vogliamo, ci sta la famiglia più potente, il clan più ricco, più numeroso, più forte, e questo clan esprime il re, il Basileus. Ulisse, Odisser, è il re di Itaca. Il suo palazzo svolge anche le funzioni di reggia, è una sede istituzionale in qualche modo. A volte questi palazzi sono fortificati, pensiamo alla porta dei leoni di Micena, a volte no, per esempio nell'Odissea non si parla mai di fortificazioni attorno alla reggia di Odisseo. Il Basileus, il re, è l'unico che può convocare e sciogliere l'Assemblea. Attenzione, l'Assemblea non ha niente a che vedere con l'Assemblea che troveremo poi nella polis greca, molto più tardi, è semplicemente la riunione dei clan. In questa Assemblea possono parlare solo i capi dei vari clan, ma attenzione, l'Assemblea non si riunisce per discutere, il re ha il potere di dare ordini. Il re ha un suo esercito personale, che sono i Sodales, che vi dicevo, quindi ha anche la forza per imporre la sua volontà. Può obbligare gli altri clan ad obbedire e può chiedere, come nel caso della spedizione contro Troia, può chiedere di concorrere alle operazioni militari che quella comunità fa. Nell'Odissea si parla spesso di città, ma città in realtà erano dei piccoli agglomerati attorno ai palazzi e una civiltà fondata sui palazzi, a volte sparsi addirittura nel territorio. E lì conta la volontà del re, perché è il più forte, spesso addirittura divinizzato. Molti dei re della civiltà micenea hanno avuto rapporti con le divinità, sono figli di, mariti di, eccetera, eccetera. Quindi il re addirittura ha quasi una figura, una qualche componente religiosa, è quello che media il rapporto tra la comunità e le divinità. Le cose però cambiano, perché da una società prevalentemente agricola, pastorale, eccetera, i micenei sono dei grandi navigatori e con la navigazione cominciano conquiste, scorrerie e anche commercio. Le fonti di ricchezza si diversificano, comincia a diversificarsi anche la composizione sociale di queste comunità. Comincia lentamente la stessa guerra di Troia, è una guerra che ha una sua origine, lasciamo stare la leggenda di Elena, eccetera, ma nel controllo di alcune rotte commerciali verso il Mar Nero, ahimè, verso l'Ucraina, già allora grande produttrice di grano e di beni di consumo. Questa differenziazione che è già in atto quando Odisseo parte da Ittaca, con dieci anni di guerra e dieci anni di assenza, un vuoto di potere enorme ha prodotto dei risultati. La società si è scomposta, le famiglie, i clan, le famiglie aristocratiche puntano a rivendicare un maggiore potere, comincia quel declino della compattezza di queste formazioni sociali che poi sarà traumaticamente spazzata via dall'invasione dorica, ma questo ne parleremo in seguito se ci sarà occasione. La società di Odisseo è in profonda trasformazione quando parte, figuriamoci, vent'anni dopo, dopo vent'anni di vuoto di potere. mi fermo qui. Quindi non chiudevano i porti, la loro ricchezza è nata aprendo i porti. Ebbè sì, direi proprio di sì, anche se un po' era frutto di qualche violenza ogni tanto. Allora, grazie, grazie mille Amedeo, molto utile. Risulterà molto utile questa pillola storica, soprattutto sulla struttura così sociale e politica e sulla funzione dell'Assemblea per il brano che leggeremo oggi e di cui parleremo oggi. Adesso allora possiamo entrare veramente nel vivo del racconto. Quando nel primo libro dell'Odissea il poeta ci porta ad Itaca, la prima scena alla quale assistiamo è quella di uno dei quotidiani festini che si tengono nella regia di Odisseo. Diciamo pure che è un'atmosfera di decadenza, di corruzione. Il salone è invaso da uomini giovani che sono intenti a gozzovigliare. Sarebbe in realtà la creme dell'isola, cioè proprio i rampolli di quelle famiglie aristocratiche di cui parlava Amedeo e questi giovani rampolli aspirano tutti alla mano di Penelope, cioè la moglie del grande re assente. Noi possiamo cominciare a chiamarli subito con il nome che gli ha resi famosi, sono i Proci. Non i Porci. No, no, i Proci, che vuole dire i pretendenti, dal latino Procus, che ha la stessa radice di Prex Prex, preghiera. Bene, i Proci appartengono alla generazione che vent'anni prima non ha seguito Odisseo in guerra perché è troppo giovane. Alcuni di quella generazione, i migliori, purtroppo in numero così minoritario, si sono impegnati a conservare le ricchezze del regno, curando i campi, il bestiame. Altri, i peggiori, i più, invece si sono abbandonati a una vita parassitaria, crescendo senza far nulla e sperperando senza pensiero questo cito proprio dal poema, le ricchezze lasciate da Odisseo e da coloro che l'hanno seguito in guerra. E naturalmente sono proprio questi peggiori che ambiscono al trono vuoto di Odisseo. Eh, tutto il mondo è paese. Perché dico naturalmente? Perché questi Proci sono superbi e la loro è la superbia che deriva dalla nascita, cioè dalla consapevolezza di appartenere all'upper class, però sono anche mediocri. Cioè l'idea del potere li affascina proprio perché non lo comprendono appieno, non immaginano cosa significhi davvero essere re. Non immaginano i Proci quanta responsabilità, quanta sofferenza comporti ad Odisseo il proprio ruolo. Per loro essere re significa solo vivere nel privilegio. E quindi attratti dalla casa di Odisseo, che è il luogo del potere, ci si sono insediati in pianta stabile e ogni giorno la violano, la consumano, potremmo dire se ne cibano, sognano di possedere la regina Penelope, moglie del re, e intanto abusano più e più volte delle sue serve. Ma sì, ma certo. No, ma perché volevano Penelope? Perché era un po', diciamo, matura, un po' milf era, no? Penelope per loro, come dire, no? Perché il potere regale andava per via, si trasmetteva per via femminile, no? Sposando Penelope diventavano re a tutti gli effetti, no? Lei era come un'investitura, sposare Penelope era un'investitura. Oh, questo stato di cose va avanti, dice il poeta dell'Odissea, quando inizia la nostra storia, da circa quattro anni. E nel corso di questi anni il numero di parassiti che consumano i beni del re è diventato enorme. I procci sono ormai più di cento che sono lì a gozzovigliare nella regia di Odisse. Ora, all'epoca esisteva effettivamente un'usanza, secondo la quale una donna, quando rimaneva vedova, doveva ritornare alla casa del padre, dove i suoi nuovi pretendenti potevano trattenersi come ospiti, naturalmente per il tempo strettamente necessario a conquistarla, diciamo così, ingraziandosela con doni o azioni eroiche. Ma il fatto è che Penelope non è vedova. Penelope sta ancora aspettando il ritorno del marito, della cui morte non ci sono prove. Penelope non è tornata alla casa del padre Icario, è invece rimasta nella casa di Odisseo, nella casa coniugale, dove ha allevato il figlio di Odisseo, Telemaco, col quale vive ancora e che era appena nato nel momento della partenza del re. Insomma, i proci, stravolgendo così a proprio vantaggio quell'usanza prevista per il corteggiamento di una donna rimasta vedova, si sono insediati nella casa del marito assente per corteggiarne la moglie. Ma torniamo alla scena che apre il poema, perché in mezzo a questi proci ubriachi c'è Telemaco, il figlio di Odisseo. Era seduto fra i proci e si macerava nel cuore, si figurava in cuor suo che il nobile padre giungesse e per le sale così destasse fra i proci scompiglio, si riprendesse lo scettro e regnasse sopra i suoi beni. Ecco, questi sono i versi che presentano Telemaco e lo presentano come un giovane tormentato. Il poeta dice che si macera nel cuore, ma al contempo è anche un giovane bloccato, cioè incapace di agire. Telemaco soffre terribilmente per la situazione in cui si trova intrappolato, però l'unica via d'uscita che riesce a vedere sembra essere legata al ritorno del padre, un padre che non c'è, un padre che non ha mai conosciuto e che chiaramente lui ha idealizzato, no? Telemaco pensa che solo suo padre potrebbe cambiare le cose, solo lui saprebbe riprendersi lo scettro, unire i proci e saprebbe tornare a regnare con saggezza. Non pensa Telemaco assolutamente che il cambiamento possa arrivare invece da lui. Telemaco si vede come un ragazzo privo di forza, privo di autonomia, costretto a subire inerme e inerte lo stato di cose. In realtà, in realtà non è proprio così. Non è proprio così. Perché? Perché Telemaco sta per raggiungere la maggiore età. Che non è 18 anni. No, è 20. Secondo il costume dell'epoca si raggiungeva col compimento dei 20 anni. E Telemaco sta per compiere dei 20 anni e quindi sta per acquisire il diritto di dire la sua finalmente da uomo. Il diritto di prendere parte attiva alla vita pubblica del regno. Ed è a questo punto che entra in scena il personaggio che diciamo così provoca il cambiamento. Perché? Attenzione. In quella festa lì che apre la storia. In una delle tante feste tipo billionaire arriva alla reggia uno straniero. Uno straniero. Uno straniero che si presenta come mentes. Dice di essere il capo dei tafi. Dice di essere un mercante di metalli. Un mercante. Giunto a Itaca per affari. Ora mentes è un nome parlante perché significa colui che rammenta. E infatti mentes preso da parte Telemaco gli rammenta che sta per compiere vent'anni che deve prendere in mano la sua vita anche l'assenza del padre. E mentes dà subito a Telemaco una serie di consigli pratici per sbloccare quella situazione di stallo in cui si trova e per avere la meglio su coloro che stanno distruggendo i suoi averi. Ora i consigli di mentes come vedremo si profilano con una vera e propria tattica intelligente raffinata forse troppo tanto che lo stesso Telemaco non impiegherà poi molto a capire che in realtà sotto le sembianze di quel mercante in realtà si cela la dea Atena che da sempre protegge Odisso e la sua famiglia. Chiamiamolo così anzi chiamiamola così Atena mentes consiglia principalmente a Telemaco di fare due cose uno indire l'assemblea pubblica quella di cui parlava prima Amedeo indire l'assemblea pubblica per denunciare la situazione creatasi dentro la sua la sua casa e capire capire se ha ancora alleati a Itaca due cercare di scoprire la verità su suo padre cioè capire se sia vivo o se sia morto come intraprendendo un viaggio nei regni vicini per avere notizie di Odisseo dagli altri sovrarani greci che invece sono riusciti a fare ritorno a casa da Troia e quindi anche diciamo espandersi un po' tra i vicini per vedere se anche lì i vecchi militoni di Ulisse possono aiutare no Telemaco dargli una mano anche dall'estero esatto in ogni caso Atena Mentes fa capire a Telemaco senza mezzi termini che il potere potrà essere riconquistato che ci sia o non ci sia suo padre per mezzo dell'astuzia e della forza ora questo confronto con Atena Mentes segna per Telemaco davvero un punto di svolta perché diventa improvvisamente un uomo cioè prende coscienza di sé e infiammato dai consigli dell'Edea prende subito la parola in mezzo al festino dei proci e comincia ad accusarli apertamente per come si comporta un attimo più prudente diciamo li minaccia e rende pubblica la sua decisione di partire per un viaggio alla ricerca di notizie del padre dice tutto dice tutto in realtà non gli credono perché loro rimangono così un po' dicono ma questo qui è un ragazzino figurati che fa queste cose che minaccia di fare loro l'hanno sempre conosciuto come un ragazzo introverso taciturno vissuto nell'ombra però però è talmente così agguerrito che sotto sotto si inquietano ecco bene passa la notte e arriviamo al secondo giorno della nostra storia il giorno successivo a quello dell'incontro con Atena Mentes al mattino Telemaco fa convocare l'assemblea pubblica impone agli araldi dice il poeta di proclamare ad un'anza fra Achei dalle teste chiomate ecco siamo Achei dalle teste chiomate sarebbero i greci i tacesi con i capelli un po' arrasati no perché questi epiteti Achei dalle teste chiomate sembra di stare con gli indiani no? no però vedrete anche dalla lettura che continuano a tornare sono formule che il poeta usa anche a livello metrico per esempio i araldi non sono araldi sono araldi voce tonante o qualcosa del genere quindi ma ne sentirete tantissime è una delle caratteristiche no? dell'epica no? no 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 devo dire noto una cosa particolare Achei dalle teste chiomate che vuol dire scusa vai tu fai le battute pratica battute e per capire meglio scusa va bene procedo si vai avanti ecco siamo allora secondo libro secondo libro dell'Odissea quello da cui leggeremo il brano di oggi il libro si apre proprio con la descrizione di come Telemaco si prepara per la sua prima apparizione pubblica mette la spada affilata l'asta di bronzo ben fatti calzari si fa accompagnare da due cani veloci cioè vuole dare una certa immagine diciamo di sé regale forte anche ma l'assemblea degli tacesi non è importante solo per così il processo molto personale di formazione di Telemaco che per la prima volta prende la parola da uomo in un contesto istituzionale no l'assemblea degli tacesi è qualcosa di molto più importante è proprio un fatto epocale per la storia di Itaca innanzitutto si tratta della prima assemblea convocata dopo la partenza di Odisseo quindi dopo vent'anni che effettivamente era il re che aveva il ruolo di convocare l'assemblea e non c'era da vent'anni e quindi l'assemblea non veniva convocata da vent'anni cioè questi sono vent'anni che non fanno consultazioni lo dice chiaramente Egizio Egizio è il primo anziano del consiglio e quando potremmo dire apre i lavori della seduta e dà la parola a Telemaco dice non si è raccolta la nostra adunanza non il consiglio da che lo splendido Odisseo partì sulle concave navi e quest'organo politico che non viene utilizzato da vent'anni appare subito come qualcosa di anacronistico di appartenente ad un'altra epoca perché si percepisce fin dai primi momenti una differenza profonda tra il modo di comportarsi degli anziani e quello dei giovani compreso Telemaco all'interno di questa istituzione collegiale consigliare innanzitutto emerge una certa confusione tra pubblico e privato perché parliamo sempre di 3.000 anni fa perché all'arrivo di Telemaco gli anziani gli fanno luogo perché prenda posto sullo scranno del padre e forse già in questa scelta viene espressa una sorta di riconoscimento da parte del consiglio degli anziani di un ruolo pubblico che Telemaco avrebbe ereditato da Odissio e quando Egizio introduce Telemaco dice esplicitamente che la convocazione dell'assemblea non può che avvenire per discutere di fatti di pubblica utilità dice così Egizio forse chi ha convocato l'assemblea avrà udita notizia di esercito che sopraggiunge cioè si attaccano forse oppure d'altro pubblico bene intende trattare e parlare invece Telemaco di parlare impaziente dice il poeta apre il suo discorso negando il carattere pubblico di quanto sta per dire proprio inizia con due negazioni no non ho udita notizia d'esercito che sopraggiunge né d'altro pubblico bene intendo trattare o parlare ma del mio proprio bisogno del male che in casa mi piomba cioè Telemaco vuole sì denunciare la profonda ingiustizia che sta subendo con l'invasione della propria casa ad opera dei proci e vuole chiedere al popolo di Itaca di intervenire in suo favore ma nel farlo non fa leva su un presunto ruolo pubblico istituzionale in quanto figlio di Odissio che lui la sua casa la sua famiglia dovrebbero ricoprire nell'isola sì a un certo punto come vedrete nomina il padre dicendo anche che Odissio per gli Itacesi come un padre era mite dice Telemaco però subito dopo dice che lui non è Odissio addirittura si definisce meschino e non molto incline al valore cioè si sminuisce di nuovo si presenta come un ragazzino senza forza Telemaco insomma nel chiedere aiuto al popolo di Itaca nell'assemblea fa leva semplicemente sul sul senso di giustizia che dovrebbe spingere gli Itacesi a sdegnarsi per quanto sta accadendo nella sua casa ma non fa leva sul suo essere erede al trono sul suo ruolo pubblico cioè inizia a profilarsi uno svuotamento di tutto ciò che è istituzionale dal ruolo pubblico della famiglia regnante fino all'organo dell'assemblea al proposito fate caso anche ad una formula sempre uguale con cui tutti gli anziani che prendono la parola aprono i propri discorsi tutti gli anziani quando iniziano a parlare dicono date ora ascolto a me voi tacesi a quello che dico ecco questo verso ricorre sembra proprio che gli anziani osservino una sorta di etichetta istituzionale bene nessuno dei giovani né telemaco né i proci che prendono la parola usa quella formula perché non la conoscono non l'hanno mai sentita non c'è mai stato un'assemblea non hanno mai partecipato ad un'assemblea e quindi non ne conoscono le regole però purtroppo è questo che è importante non è solo un dato formale non è solo un dato formale quest'ignoranza diciamo totale sul modo di comportarsi in un contesto istituzionale assembleare nasconde però un inquietante disconoscimento del reale valore dell'assemblea stessa che viene completamente svuotata del suo ruolo c'è nel modo di parlare dei giovani un disprezzo per le parole e i riti degli anziani e potremmo dire un'insofferenza per le regole del dibattito pubblico che smascherano la loro paura di dover essere sottoposti ad un giudizio collegiale infatti come sentirete il primo dei proci che prende la parola Antino attaccherà subito Telemaco definendolo sobillatore cioè agitatore di folle lo accusa di aizzare il popolo contro di loro cioè l'assemblea come luogo di confronto civile di discussione viene nei fatti trasformata quasi in un'arena in cui tanti arringa folle più o meno bravi si attaccano a vicenda più con l'intento di colpire alla pancia il popolo che di cercare realmente l'approvazione della maggioranza il consenso della maggioranza dell'assemblea e lo dimostra lo stesso Antino col suo discorso con il quale attenzione sposta abilmente l'attenzione dal problema reale vecchio vecchio trucco e più che rendere conto del comportamento suo e degli altri proci addita al popolo un capo espiatorio su cui riversa la colpa di tutto capo espiatorio cosa ho detto capo non so ho sentito mai e guarda caso il capo espiatorio è ma guarda un po' una donna cioè Penelope che viene accusata di essere che sarà anche regina ma è pur sempre una donna una donna una donna in fida dice Antino senza scrupoli colpevole di aver ordito a danno dei proci il famoso inganno della tela che tutti noi conosciamo perché non gli va giù di essere stati ingannati da una donna non stiamo a spiegare l'inganno della tela per cui lei racconterà le proci stesse quindi attenzione comunque era una tela funebre che Penelope doveva tessere per laerte cioè il vecchio padre di Oggio che non era ancora morto prima di passare a nuove nozze Penelope voleva concludere questo 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 manto funebre insomma la situazione in ogni caso diventa sempre più tesa e quando Telemaco rispondendo a Dantino invoca contro i proci la vendetta divina appaiono in volo due aquile che proprio quando sorvolano la dunanza iniziano a ferirsi reciprocamente a sangue ne ebbero tutti sgomento dice il poeta allora prende la parola un altro anziano sempre con la formula di rito date un rascolto a me voi tacesi a quello che dico quest'anziano è Aliterse un indovino un indovino esperto nell'interpretazione del volo degli uccelli che mette in guardia il popolo di Itaca dall'esito sanguinoso che lo scontro fra i proci e Telemaco rischia di avere per tutta l'isola il rischio concreto è quello della guerra civile ma un altro dei proci Eurimaco prende la parola raccopre di insulti il buon vecchio indovino Literse gli dice di andarsene a casa sua a fare i vaticini a casa sua per i suoi che tanto è pieno di uccelli che si levano in volo e non tutti recano presagi cioè c'è proprio uno sfottere anche i presagi divini non hanno paura di niente no? dopodiché prende la parola l'ultimo degli anziani mentore mentore è il più vicino a telemaco perché è colui a cui Odisseo partendo aveva affidato la cura della propria casa e vedrete che il discorso di mentore è davvero il più nero perché perché mentore questo è molto interessante più che i proci che dice lui si comportano come si comportano per malizia cioè per raggiungere il proprio obiettivo di ricchezze e potere cioè hanno un obiettivo no mentore accusa soprattutto il popolo di Itaca che non prende posizione contro di loro effettivamente come vedrete in questa assemblea il silenzio degli itacesi cioè il silenzio dell'assemblea è assordante perché i partecipanti all'assemblea sembrano stare sentimentalmente diciamo così dalla parte di telemaco per esempio quando finisce il suo discorso telemaco il poeta dice che in tutto il popolo scese cordoglio ma quello stesso popolo che sta sentimentalmente con telemaco non prende sa cosa è giusto e cosa è sbagliato anche perché Odisseo era un re molto amato era un re mite che si prendeva cura del popolo però il popolo non prende posizione e mentore dice chiaramente agli itacesi che l'ingratitudine che dimostrano nei confronti di un re che come un padre era mite lo ripete per la seconda volta mentore ecco quell'ingratitudine nei confronti di un re mite non può che preannunciare e giustificare non solo la guerra civile ma anche l'avvento della tirannide cioè di un re non più mite ma anche mentore esattamente come Aliterse viene accusato da un altro dei proci questa volta Eleocrito che è l'ultimo dei proci che prende la parola in assemblea e accusa mentore di incitare la folla contro di loro mentore truce d'asprezza sei fuori di senno che cosa hai detto per incitare costoro a fermarci ecco di nuovo è il tema del suo billare il popolo i proci i proci vogliono poter fare i loro porci comodi nell'indifferenza generale questo vogliono fare quindi a loro dà fastidio che qualcuno invochi una reazione da parte del popolo contro di loro Eleocrito calando ormai completamente la maschera aggiunge che i proci non hanno nessuna intenzione di rinunciare alle loro pretese su Penelope e sul trono e che dice arduo sarebbe battersi per un banchetto con uomini e siano poi molti questo è un verso così di non immediata comprensione un po' contorto che però significa traducendo che l'interesse dei proci è tanto forte che sarebbe difficile anche per molti frapporsi tra loro e il banchetto cioè tra loro e il potere detto questo Leocrito scioglie l'assemblea e la scioglie in maniera irrituale irrispettosa e quindi decretandone di fatto la fine decretando la fine della sua funzione dice così su separatevi uomini ognuno ha le proprie faccende bene direi che potremo passare alla lettura del brano ma tu fai telemaco vero? io faccio telemaco e tu fai tutto il resto ecco piace fare i proci a me eh lo so ma mi vengono meglio gli anziani ormai dei proci inizia così come apparì mattutina l'aurora che a dita di rosa il caro figlio d'odisseo allora salzò dal suo letto vesti indossò poi s'appese la spada affilata alle spalle e sotto i piedi robusti s'avvinse i benfatti calzari quindi dal talamo uscì eguale agli dèi nell'aspetto subito allora egli impose agli araldi voci sonore di proclamare adunanza fra che dalle teste chiomate e si gridarono il bando accorsero gli altri in gran fretta dopo che furono infine riuniti ed insieme raccolti nella adunanza egli apparve impugnava l'asta di bronzo non era solo gli andavano accanto due cani veloci sopra di lui riversò Atena una grazia divina mentre avanzava ammirate guardavano tutte le genti venne allo scranno del padre gli fecero luogo gli anziani dunque per primo parlò fra di loro egizio un eroe che di vecchiezza era curvo e aveva infinita esperienza fate ora ascolto a me voi i tacesi a quello che dico non sei raccolta la nostra adunanza non il consiglio da che lo splendido odisseo partì sulle concave navi i ora qui ci raccoglie i preme si grave bisogno o fra i più giovani oppure fra quelli d'età più avanzata forse avrà udita notizia l'esercito che sopraggiunge nuova che a noi dirà chiara poiché l'ha ascoltata per primo un altro pubblico bene intende trattare e parlare nobile uomo mi sembra benevolo possa per lui compiere Zeus ogni bene che attende impaziente il suo cuore disse così e caro figlio d'odisseo gioì dell'augurio più non rimase in silenzio ma pu di parlare impaziente no non ho udita notizia ad esercito che sopraggiunge nuova che a voi direi chiara l'avessi ascoltata per primo né d'altro pubblico bene intendo trattare o parlare ma del mio proprio bisogno del male che in casa mi piomba bubliche il nobile padre ho perso che un tempo fra voi qui governò quale re lui che come un padre era mite ora anche un altro più grande che tutta la casa ben presto dilanierà interamente e mi perderà tutti i beni contro la sua volontà i proci han forzato mia madre figli diletti di quelli che nobili sono fra voi essi che hanno timore d'andare alla casa di cario del padre suo perché questi fornisca di dote la figlia e la conceda a chi voglia a chi gli riesca gradito e nel frattempo da noi si affollano giorno per giorno fanno macello di bovi e pecore e capre opulente pranzi di festa imbandiscono e bevono limpido vino senza pensiero e non poco si perde e non c'è quell'eroe valido che era già odisseo a stornare il male da casa noi di stornarlo non siamo capaci ora ed anche in futuro forse saremo meschini e non molto inclini al valore certo vi allontanerei se solo ne avessi la forza compiono infamie al di là d'ogni freno in triste rovina questa mia casa perisce anche voi dovreste sdegnarvi e vergognarvi dovreste in faccia alle genti vicine quelle che intorno ci stanno e temere l'ira dei numi non vi si volgano contro sdegnati dei turpi misfatti sì così disse adirato e scagliò giù in terra lo scettro e scoppiò in lacrime in tutto il popolo scese cordoglio gli altri si tacquero tutti allora e nessuno ebbe ardire di replicare parlando a telemaco aspre parole contro di lui solo antino allora in risposta diceva sovillatore telemaco acceso di furia che hai detto per ricoprirci d'infamia di biasimo tu vuoi macchiarci verso di te tra gli acchei non sono colpevoli i proci quanto piuttosto tua madre che troppe scaltrezze conosce questo è oramai il terzo anno e verrà ben presto anche il quarto da che continua a illudere il cuore nel petto agli acchei tutti conduce a sperare e da ciascun uomo promette con l'inviare messaggi ma ad altro è bramoso il suo cuore e nella mente poté concepire ancora altro inganno prese ad ordire a palazzo una grande tela e tesseva tela sottile ed immensa ed in mezzo a noi così disse giovani proci poiché lo splendido udizio è perito pur impazienti di nozze attendete fino a che un manto non compirò che le fila non vadano perse nel vento funebre manto alla herteroe per il giorno che a lui venga la moira funesta di morte di turna di pene che fra le schiere da che con me non si sdegni nessuna se giacerà senza veste chi già possede tanti beni se così disse ed in noi fu persuaso l'animo altero ecco che allora di giorno tesseva la grande sua tela e la sfaceva di notte avendo le fiaccole accanto dunque occultò per tre anni l'inganno e persuase gli achei ma giunto che fu il quarto anno al volgersi delle stagioni tutto ci disse una donna allora che bello sapeva la sorprendemmo che stava svolgendo la fulgida tela e la perciò la compì benché non volesse di forza questa è per te la risposta dei proci affinché lo comprenda tu dentro l'animo tuo comprendano tutti gli achei ancora i tuoi beni e le tue ricchezze si consumeranno fino a che ella sarà dello stesso intento che i lumi ora le ispirano in petto e certo per sé gloria grande sta procurando ma a te rimpianto di molte ricchezze noi non andremo per ora alle nostre terre né altrove prima che in mezzo agli achei non abbia sposato di voglia voi se soltanto è sensibile al biasimo l'animo vostro abbandonate il palazzo curatevi da altri banchetti e i beni vostri mangiate scambiatevi in casa gli inviti se tuttavia vi parrà che scelta più agevole e saggia sia impunemente mandare in rovina i beni di un uomo vuoi i miei te ma io io pregherò gli dei vivi sempre solo che Zeus mi conceda che un giorno se ne abbia compenso invendicati verreste a rovina dentro le sale disse Telemaco e a lui due aquile in volo dall'alto giù dalla cima del monte inviò Zeus ampio veggente esse da prima volarono insieme ai respiri del vento ed appagnate e vicine andavano ad ali distese ma come furono in piena adunanza incerta di voci ecco che ruote di voli batterono l'ali frequenti sopra ogni capo planarono e avevano negli occhi rovina poi filuccandosi il collo e le gote a furia d'artigli sulle città sulle case balzarono via verso destra vecchia tutti scomento mirando con gli occhi gli uccelli e presagirono in cuore gli eventi già pronti a compirsi e fra di loro parlò un anziano eroe aliterse figlio di mastore solo tra i suoi coetanei spiccava nel ravvisare gli uccelli e nello spiegarne i presagi egli parlò fra loro con saggio proposito e disse date ora ascolto a me voi i tacesi a quello che dico ma più che ad altri ecco ai proci mi rivolgerò nel parlare grande shagura su loro precipita odisteo davvero non sarà a lungo lontano dei suoi anzi forse oramai egli è vicino e per loro premedita morte esterminio per tutti quanti e shagura verrà per molti altri di noi che dimoriamo qui in intacariosa a piuttosto assai prima noi provvediamo affinché si fermino e anzi da soli cedano sì poiché questa per loro è la scelta più saggia non non presagisco forzatamente bensì come esperto dico che adesso per lui si viene compiendo ogni cosa come gli avevo predetto allorché gli argivi per ilio si erano mossi e con loro andò odissio ricco d'ingegno dissi e molto soffrendo e perduti tutti i compagni e sconosciuto a noi tutti alla fine dopo vent'anni ritornerebbe alla patria tutto adesso si compie e da lui il figlio di Polibo Eurimaco disse per contro Vecchio quei tuoi vaticini ripetili in mezzo ai tuoi figli e dalla casa ritorna non abbiano danno in futuro e io sono molto più esperto di te qui nel far vaticini sotto alla luce del sole uccelli si levano in volo molti e non recano tutti un presagio e Odissio è caduto in una terra lontana e tu pure fossi con lui morto non proferiresti sciocchezze svelando responsi né aizzeresti così telemaco già incollerito per la tua casa aspettandosti un dono ove mai te ne porga mal divorati saranno i beni e nessun indendizzo mai vi sarà finché indugi sua madre porrà per gli achei e le sue nozze ma noi in attesa giorno per giorno per la virtù di Penelope avremo contesa né ad altre ci volgeremo che pure a ognuno convenga sposare bene o eurimaco e insieme voi altri voi proci supervi io più non supplico ormai né di questo intendo parlarvi no che gli dèi già lo sanno e con loro tutti gli achei datemi un'agile nave invece e poi venti compagni sì che per me nell'andare e tornare compian la rotta mi recherò fino a Sparta nonché verso Pilo Arenosa a investigare il ritorno del padre da tempo lontano quindi come ebbe parlato sedè e si levò fra loro mentore lui che di Odisseo impeccabile era compagno sopra le navi partendo l'eroe gli affidò tutta casa sì che obbedisse all'anziano e serbasse tutto al sicuro egli fra loro parlò con saggio proposito e disse date ora ascolto a me voi i tacesi a quello che dico che più nessuno benigno e gentile e mite sia mai tra gli scettrati sovrani né in cuore conosca giustizia anzi sia sempre crudele ed opere atroci commetta tanto nessuno più serba memoria d'Odisseo divino fra quelle genti di cui fu re e come un padre era mite e tuttavia con i proci superbi io non posso adirarmi se per malizia dei cuori commettono gesta violente essi arrischiando le teste si pascono si pascono nella violenza della dimora d'Odisseo che credono più non ritorni no tutto il popolo adesso io biasimo come vol tutti venire state lì muti e non aggrediti a parole quei pochi proci così da fermarli e siete pur molti ma a lui Leocrito figlio de Venore disse per contro mentore truce d'asprezza sei fuori di seno e hai detto per incitare costoro a fermarci e ardo sarebbe battersi per un banchetto con uomini e siano poi molti anche giungesse fra noi l'Itacesi Odisseo in persona se dentro nelle sue sale banchettano i proci superbi d'allontanarli di casa nell'animo fosse impaziente non godrebbe di lui la donna che tanto lo brama né del suo arrivo egli qui troverebbe ignobile fatto se si battesse con molti hai parlato contro ragione tu separatevi uomini ognuno ha le proprie faccende mentore e insieme aliterse inducono al viaggio costui quelli che sono al suo fianco da sempre compagni del padre credo però che gran tempo in Itacastor stando qui inerte ascolterà sue notizie nemmai compirà questo viaggio sciosse comebbe parlato così la veloce adunanza ok qui finisce il brano di oggi beh insomma ho capito tre cose posso dire Fab prima di dare la parola a Simone allora ho capito che quando non si tramanda la memoria il bene pubblico viene accantonato e quindi si trasforma in un fatto privato poi nonostante che Ulisse non volesse fare la guerra le guerre portano sempre sfracelli e distruzioni non solo fisiche ma anche sociali quindi questo come dire e la diciamo un po' questa diciamo separatezza questa discrasia tra giovani e anziani è un problema in una società che non è inclusiva ma che che è frammentata questo ho capito oltre a che siete bravissimi e Omero è un grande va bene Fabrizio dicci qualcosa prima di Simone ma ti dico che siamo ripartiti alla grande siete ripartiti alla grande perché siamo siamo via abbiamo avuto subito un grande seguito il nostro piccolo teatro virtuale è tornato a riempirsi di persone persone che magari ci avevano già seguito ma anche credo persone nuove invece che si sono collegate per la prima volta ho visto anche una compagna dello SPI nazionale top ho visto che hai risposto al volo ad alcuni commenti di persone che si sono collegate in ritardo e se erano persa Medeo la prima parte ovviamente quindi ricordiamo che tutto andrà sul canale youtube della CGL dell'Umbria poi noi faremo in modo di pubblicizzare le singole puntate farle girare eccetera quindi siamo partiti molto bene io invito comunque tutte le persone che ci hanno seguita a fare passaparola in modo che martedì prossimo se ne possano aggiungere anche delle nuove Simone questa esperienza questo debutto tuo una bellissima esperienza faccio i complimenti anch'io agli attori perché è stata veramente un passaggio interessantissimo sia dal punto di vista del contenuto ovviamente che nell'esposizione faccio una battuta ma ha suscitato tante battute tutta la vicenda che oggi è stata ricordata e narrata ma sono tutte censurabili e quindi diciamo così faccio un grande saluto ringrazio Patrizia perché io penso che questo lo avevamo visto sotto pandemia è stata una delle cose più belle di quel periodo perché eravamo tutti spaventati e rinchiusi ognuno dentro il proprio nido diciamo così ma penso che questa formula continua ad essere interessante perché mette insieme la necessità di conoscere ma anche la necessità di come dire riconnettere la storia al presente perché poi alla fine la storia dell'uomo varia in mille spaccettature ma sempre quella è quella appunto dell'egoismo della capacità o meno di stare insieme di come si organizzano le comunità e delle spinte molteplici che ogni comunità appunto ha al suo interno e che più siamo civilizzati e più riescono a fare sintesi quindi ad evitare altre questioni che appunto anche in questo pezzetto di storia sono emerse sono emerse con la voce e la scrittura di un grande come dicevi tu Patrizia e quindi entrano nel profondo individuale di ognuno di noi perché penso che ognuno di noi quando ascolta e si connette con questi racconti insomma trova in sé la parte del buono e la parte del cattivo e diciamo così esercita quella grande cosa che è l'equilibrio fra il bene e il cattivo che ognuno di noi ha dentro e penso quindi sia una cosa veramente interessante e non mancheremo sicuramente i prossimi e infatti il 31 Simone e tutti quanti quelli che ancora sono con noi sono tantissimi mai visto veramente una fedeltà come questa il 31 quindi il prossimo martedì sempre alle 18 sempre sulla pagina della Cigiele dell'Umbria ci sarà nessuno che naturalmente vi evoca qualche episodio ben preciso e allora io direi che ringraziamo Amedeo ringraziamo Elena Jacopo Simone naturalmente Fabrizio perché fa parte della squadra da ormai dall'inizio non facciamo brindisi perché il nostro è un happy hour alcol free senza alcol però con tanta vitalità e tanti ideali e diamo appuntamento a tutti quanti al prossimo martedì alle 18 grazie ciao grazie ciao ciao a tutti grazie a tutti buonasera grazie 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 a tutti